Salve a tutti! Siamo qui per il secondo oggetto indispensabile. In realtà non è uno solo, sono una gormeraglia di oggetti. Quindi abbiamo già visto il passaporto da tenere sempre addosso. Adesso, secondo me, è indispensabile oltre allo smartphone che... Possiamo metterlo dentro in questa categoria, quindi parte tecnologia. Quindi smartphone, power back con cavo dedicato, presa multipla con attacco... Non so come si chiama questo, quello degli elettrodomestici. E adattatore importantissimo. Questo perché in Russia ho avuto dei problemi, perché essendo stata... Prima in Asia, e avendo comprato le spine in Asia, avevo la spina proprio asiatica. Quindi quando sono arrivata in Russia e mi sono trovata con la spina asiatica, quello è stato un problema. Quindi lì mi sono comprata questo super fighissimo adattatore che praticamente può essere utilizzato in tutto il mondo. Adesso con una mano non riesco a tirarlo giù. Ecco qua. Può essere utilizzato con la spina. Questa appunto è la spina, quella classica che abbiamo noi in Italia. Va bene per la Russia. Altrimenti abbiamo tutto il resto delle altre spine, tipo quella asiatica, australiana, americana, eccetera. Quindi oggi gli indispensabili sono... Allora, perché una spina multipla? Perché le spine, se funzionano, le spine sul treno della trattata transiberiana sono tipo due per vagone. Tre perché ce n'è una in bagno e una dovrebbe essere nel reparto dell'addetto alla carrozza. Quindi è indispensabile avere una multipla in modo da poter accontentare anche gli altri passeggeri. Perché è importante essere solidale anche con gli altri viaggiatori. Per questo è tutto. Ci vediamo domani con il prossimissimo oggetto. Bye bye!